Ricominciando a crescere c'è già chi parla di un possibile ritorno per la campagna in zona gialla, si parla già di questi sono rimanuti? Non siamo noi che decidiamo. Che ci sia un aumento dei contagi in tutta Italia, in tutta Europa, c'è dovuta alla variante. Il dato che dobbiamo analizzare con attenzione è se questo influisce sui ricoveri. Dobbiamo verificare con attenzione la tenuta delle persone doppiamente vaccinate o comunque che hanno completato il ciclo anche se era uno solo e l'impatto sui vaccinati fragili. È lì secondo me che si deve fare una valutazione soprattutto di eventuali restrizioni. Per ora credo che bisogna stare attenti, responsabili, ma credo che le condizioni per restrizioni particolarmente forti in questo momento ancora non ci sono. Grazie a tutti.